Grazie per la visione! Grazie per la visione! Bacche di ginepro Due wurstel di suino trentini Pepe in grani, sale Ricetta di cucina cucrote alsaziana Sbocciate tutte le cipolle, lavate il prezzemolo, sgocciolatelo, asciugatelo delicatamente in un canovaccio, sfogliatelo e tritatelo con due cipolle Ricetta di cucina cucrote alsaziana Passiamo quindi al secondo punto della nostra ricetta di cucina Tagliate a strisce lo speck In una padella che sia del tipo antiaderente rosolate una cipolla sbucciata e tritata e le bacche di ginepro con due cucchiai d'olio Aggiungete il cavolo affettato molto sottile, l'aceto, sale e pepe E siamo dunque al terzo punto della nostra ricetta di cucina Coprite a filo con acqua leggermente tiepida e proseguite la cottura, mescolando di tanto in tanto, finché il liquido sarà assorbito del tutto Mettete il resto dell'olio in una casseruola con la cipolla tritata e quella intera infilzata con chiodi di garofano Fate insaporire a fuoco basso Aggiungete di tanto in tanto poca acqua tiepida Mescolate i crauti alla carne e aggiungete i wurstel, bolliti a parte per qualche minuto Siamo quindi arrivati alla fine della nostra ricetta di cucina Dovete quindi fare insaporire la preparazione per circa 10 minuti e servitela ben calda lasciando intera la cipolla steccata come guarnizione E ovviamente come sempre buon appetito a tutti voi Difficoltà media Preparazione 40 minuti Tempo di cottura 1 ora e 30 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.